C'è preoccupazione per il furto di un telefonino messo a segno con destrezza da una baby gang venerdì pomeriggio attorno alle 14.30.15 sul treno della tratta Colico Tirano. Secondo il racconto, denuncia postato sui social da un utente, una ragazza dopo essere stata fissata in modo fastidioso da un gruppo di ragazzini di 15-16 anni, tutti i valtellinesi all'altezza di Delebio sarebbe stata derubata dal suo smartphone Huawei 10 nero. I giovani, zaino in spalla, vestiti alla moda con destrezza, si sarebbero impossessati del cellulare della giovane, spegnendolo immediatamente per poi nasconderlo. Alla vittima, resasi conto di quanto subito, non è rimasto che sporgere denunce ai carabinieri. Un episodio, si legge nel messaggio, reso noto per sollecitare i pendolari a fare attenzione, ma soprattutto con un invito rivolto ai genitori, di studenti che viaggiano sui nostri treni, di controllare che i propri figli non siano in possesso del cellulare rubato sul quale pende una denuncia di furto.